Avanti il prossimo! Buonasera, sono Antonio Fiorillo, ho 44 anni e vorrei partecipare alla vostra trasmissione. Come? Antonio Fiorillo? Ma per lei non è necessario il provino. Posso condurre con lei? Certo che può condurre con me. Se sei un cantante, un imitatore, un attore, un musicista, un ballerino, un giocogliere, un mangiafoco, un prestigiatore, un cabarettista, un rumorista, uno scrittore, un pittore, uno scultore, un poeta, hai un gruppo musicale o una scuola di ballo... Insomma, se sei un artista e vuoi proporti al pubblico, partecipa al casting di Telecasting, il nuovo programma di più N, così potrai ricevere migliaia di contatti. Per poter partecipare basterà inviare una foto, con i tuoi dati, il tuo numero di telefono, specificando il tuo settore artistico. Al seguente indirizzo di posta elettronica telecasting tv chiocciola virgilio.it Se sarai selezionato ti contatteremo per la registrazione del tuo casting che sarà trasmessa durante il programma. Telecasting, prossimamente su più N. Ah, però sono troppo brave.